Ciao! Allora, quanto sei attaccato oppure flessibile nella tua vita? Ti faccio un esempio. Quando tu credi che qualcosa sia vera, così, come tu la pensi, come tu la credi, e poi si rivela completamente diversa, oppure opposta, oppure quello che tu credevi vero si rivela falso. Come ti senti? Quanto ti destabilizza questa informazione, questa smentita? Ebbene, se tu cerchi la certezza per sentirti bene, cerchi di attaccarti a delle informazioni, a delle situazioni, a delle credenze, perché sei alla ricerca della sicurezza, una situazione del genere potrebbe destabilizzarti molto. Ma come ti sentiresti se invece di attaccarti a qualcosa, a un'informazione, a un'idea, tu semplicemente rimanessi centrato o centrata? Questo ti renderebbe molto più forte, perché quando tu ti connetti con te stesso, con te stessa, e sei nel tuo centro, anche il fatto che delle informazioni attorno a te siano in un modo piuttosto che in un altro, beh, ti destabilizza ben poco. Ti permette proprio di rimanere in quella tua calma, pace e sicurezza che puoi provare solo quando sei veramente connesso a te stesso. Ti piacerebbe tutto questo? Ebbene, questo ti fa vivere veramente in un modo completamente diverso. Questo non ti disumanizza, anzi, ti permette di accedere ad un livello di consapevolezza e di saggezza che è connesso alla verità. Ed è tutt'altro che l'illusione in cui normalmente l'umanità vive. Ebbene, questo tu lo puoi fare anche autonomamente, connettendoti proprio con il metodo Divine Connection. Se non lo conosci ancora, ti suggerisco di entrare sul gruppo Facebook Divine Connection e di entrare a far parte di questa community, troverai un mondo di nuovi amici che utilizzano questo metodo proprio per lasciare andare tutte quelle che sono le illusioni e tutte quelle che sono quelle sensazioni ed emozioni che destabilizzano, che ti fanno sentire male. E per entrare in connessione con il proprio centro e trovare la propria verità. Non la verità che ti dice qualcun altro, proprio la tua, ma quella che parte dalla tua parte più saggia e non quella che parte dalla mente, che dice tante bugie. Si chiama mente, proprio perché mente. Ok? Allora ti aspettiamo nel gruppo Divine Connection. Mi raccomando, la pace interiore, connessa proprio a quella sensazione che tu provi quando sei centrato, è qualcosa che cambierà veramente la tua vita. Ciao, a presto! Grazie a tutti!